Credo che d'ora in poi andrà tutto in meglio, tutto verso un percorso dove io possa riacquistare una serenità, una tranquillità ed essere riammesso nella società. E' stato assolto Giacomo Ciriello il 19enne che nel febbraio 2017 uccise con un colpo di fucile il padre Lucignano perché incapace di intendere volere al momento dell'omicidio. Il gruppo del Tribunale di Arezzo, Gian Piero Borraccia, ha stabilito che il giovane dovrà essere affidato alle cure di una REMS, strutture nate dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, come chiesto anche dal PM Laura Taddei. La difesa invece aveva chiesto una sistemazione in una struttura di secondo livello, meno restrittiva. Le conclusioni dei periti non potevano che condurre a questo tipo di provenimento, secondo legge. Questo è un buon viatico per Giacomo per cercare di iniziare questo programma di reintegrazione, ma prima di tutto di guarigione. Determinante è stata la perizia degli specialisti incaricati dal Tribunale dalla quale emerge un importante disturbo della personalità, sfociato poi in uno scompenso psicotico delirante. Dunque quella drammatica notte il giovane era totalmente incapace di intendere volere ed il vizio di mente implica la non punibilità, una tesi sposata in pieno dal giudice Borraccia. Lui seguiva un istinto che gli diceva di far quello. Presente questa mattina la lettura della sentenza anche Giacomo, assieme alla mamma e gli educatori della casa famiglia di Prato, dove si trova attualmente. Vedo un futuro prospero nonostante tutto, credo possa avere più o meno le stesse possibilità che avrei avuto altrimenti se non fosse accaduto nulla.